Salva gente! Allora, allora, che dire ragazzi dei tantissimi messaggi che mi avete mandato chiedo scusa, ma lo sapete, ve l'ho scritto anche se vi ho risposto il ritardo perché quelli di ieri sera li ho risposto stamattina perché ieri tra video poi la diretta live con gli amici dell'udienza del VAR 3D insomma, non ho avuto tempo di rispondere, veramente tanti tanti non mi aspettavo e soprattutto è la prima volta di solito quando la Lazio Vince mi scrivete più o meno le stesse cose i messaggi sono molto simili, tant'è che io rispondo quasi in automatico perché più o meno le risposte sono sempre le stesse da ieri, questa mattina, ma anche fino a poco fa che ancora mi stavate scrivendo mi avete veramente mandato messaggi che parlavano di ogni cosa di quello che ha detto Lotito, di quello che ha detto Sari, di quello che è stata la partita su Marcos Antonio, di come la Lazio si dovrà muovere in futuro mi avete scritto addirittura delle vostre aspettative adesso entro la fine del campionato, insomma mi avete parlato di tantissime cose mi piace avere più sfaccettature, più idee, più vedere la Lazio da tanti punti di vista molti hanno un punto di vista diametralmente opposto al mio, ma ci sta è importante parlarne, insomma, è comunque quello che è sempre chiaro che quando la Lazio fa bene e vince siamo tutti contenti e quando la Lazio non fa bene e perde siamo tutti ovviamente tristi poi c'è chi, come me, cerca di andare più a fondo a capire il problema ma chi invece si arrabbia e basta comunque, andiamo avanti e non perdiamo tempo che in realtà ragazzi ve lo dico, ci sarebbero due miliardi di cose da dire se prendo ogni messaggio che mi è arrivato ieri veramente questo video dovrebbe mezz'ora proprio perché per la vastità e la diversità di messaggi che mi sono arrivati andiamo a parlare solo di un paio di punti prima volta tu che stai andando a questo video, come sempre, se non mi sei fatto iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanerci tutti i contenuti mi spiace per quelli che si sono disiscritti ma è libera scelta disiscrivervi, ve lo dico io, se non mi piace il canale disiscrivetevi dopo Lazio Juventus, 7-8 persone in circa si sono disiscritte suppongo tutti i juventini pazienza ragazzi, vi ringrazio di esservi iscritti prima e di averci provato sempre e comunque un like prima di abbandonare il video anche se non sei iscritto lo puoi lasciare un like quindi iscritto o non iscritto e tu sia il like andiamo perché sono già passati due minuti allora ragazzi, ovviamente tutti contenti ve lo dico subito, per quelli che hanno scritto se il Napoli rallenta possiamo prendere anche il primo posto mi pare un po' troppo fermiamoci al secondo posto difendiamo il secondo posto secondo me è fondamentale perché arrivano più soldini e a Lazio servono sempre perché ti puoi giocare, come ho già spiegato a molti di voi sui messaggi ti puoi giocare un playoff di Supercoppa visto che le regole sono cambiate e quindi sarebbe un ottimo l'idea che io avevo che si poteva arrivare tra le prime quattro ovviamente non prevedeva addirittura di arrivare seconda però se le altre rallentano e noi facciamo bene manteniamo anche perché anche Sarri ha parlato di rivedere la classifica che le classifiche dopo otto giornate cambiano nel senso che adesso mancheranno otto giornate quindi è inutile vedere anche la classifica adesso ma dopo otto giornate a parte che Sarri dice pure non dire che la vedete oggi nel senso ieri ma aspettate che finisce perché adesso sembrano che le distanze sono enormi ma aspettiamo che gli altri giocano quindi almeno aspettate che finisce sta giornata ma poi comunque fa capire come sono le otto giornate prima otto giornate dopo insomma otto giornate vogliono dire tanto ma secondo me cosa che io poi avevo anche detto sbagliando non è una adesso non abbiamo un mini torneo di 10 partite 9 partite io vedendo il calendario ragazzi noi ci sono rimaste 4 partite noi abbiamo 4 partite dove se facciamo bene per noi la posizione probabilmente rimarrà quella o quantomeno rimani nella certezza di andare in Champions 4 partite perché noi adesso abbiamo Lazio-Torino Inter-Lazio Lazio-Sassuolo e Milan-Lazio quindi non solo dirette concorrenti ma andatevi a vedere fra 4 giornate il 7 maggio che scontri diretti che ci sono ma anche queste 4 giornate ci sono anche scontri difficili per le altre cioè se tu fai queste solo 4 partite rimaste le fai bene come stai facendo bene adesso basta noi non dobbiamo fare un torneo di 8 partite ormai a noi ce ne bastano 4 quindi io spero ci si concentri in queste 4 partite ma io penso che che ovviamente sarà così però l'idea che ce ne siano solo 4 è più rassicurante il fatto di doverne giocare 8 perché queste 4 fatte bene ragazzi basta allora si che sto d'accordo con chi mi dice i giochi sono chiusi no i giochi oggi non sono chiusi ma fra 4 giornate i giochi potrebbero essere chiusi e si potrebbe giocare con un po' più di con meno ansia diciamo così che dire qualcuno mi ha scritto Sarri continua a dire ormai è un mantra che se prima diceva che era difficile ma non impossibile adesso dice queste sono le parole di Sarri che adesso non è facile ma è altrettanto difficile sì ma prima non diceva cioè adesso lo dice da qualche conferenza ormai lo dice sempre ma prima non diceva che era difficile ma non impossibile prima diceva che era impossibile proprio tant'è che infatti perché io mi ci arrabbiavo ripeto se all'inizio campionato uno poteva anche dargli quasi ragione ma dopo il campionato ha cominciato a far vedere alcune cose un Inter incerta un Milan che ha avuto alti e bassi una Roma che non è migliorata rispetto all'anno scorso nonostante acquisti ottimi e che è una Lazio che invece aveva già un po' migliorato una Juve penalizzata insomma c'erano tante cose che per me rispetto se all'inizio uno poteva pensarla in un modo ma poco dopo secondo me non c'erano dubbi che Lazio poteva entrare nei primi quattro non era non era facile ma di certo non impossibile comunque sì Sarri ha cambiato ma ripeto ragazzi meglio tardi che mai è giusto se uno cambia le cose le prospettive va benissimo e poi immagino che adesso con questa Lazio dove comincia a vedere i frutti del lavoro è normale che ci si convinca anche lui i numeri sanno dalla sua quindi va bene non è che uno se cambia opinione va criticato anzi secondo me è una cosa intelligente se adesso vede questa convinzione perché suppongo adesso assapora una squadra più convinta peccato che questa commissione sia dovuta arrivare o comunque arrivata dopo l'uscita quantomeno della conference la conference mi è proprio dispiaciuta anche perché l'altra sera ho visto Underleck la Z onestamente questa Underleck non è che è strutturata per la conference è una squadra che se va se la gioca e ha fatto 2-0 la Z dopo che aveva vinto l'Underleck già aveva buttato fuori il Villareal che era una di quelle che venivano messe come possibili vincitrici quindi secondo me la conference ragazzi potremmo fare di più però ripeto alla fine si è scelto anche per lavorare meglio questa fine del campionato io non lo so è inutile che mi dicano no noi ci tenevamo era chiaro che non ci tenevamo perché abbiamo fatto il minimo per poter andare avanti e nei momenti di difficoltà ci siamo arresi quindi non però ripeto un sacrificio che serviva affinché per accelerare la maturità o comunque per finire questo lavoro di due anni vabbè mando giù sta pillola amara però poi ecco se i risultati e il lavoro effettivamente ne giova in questo modo ben venga allora c'erano ragione a quelli a dire lasciamola perdere questa competizione lasciamola alla Fiorentina perché poi la Fiorentina mi sembra quella più lanciata lasciamola alla Fiorentina e noi pensiamo invece a far bene in campionato che a tutti ragazzi mi avete parlato di queste cose mi avete parlato ovviamente 200 nomi perché adesso c'è già chi pensa al futuro al calciomercato ragazzi intanto vediamo un po' perché poi cambia molto se va via o rimane Milinkovic perché i soldi vanno o vengono a seconda se va via o no cambia molto se arrivi seconda o quarta in Champions perché i soldi sono diversi però i nomi che fate sono tutti ottimi ragazzi sono veramente tutti ottimi ovviamente la Lazio come sempre partirà prima dai parametri zero perché qualche nome di parametri zero ha cominciato a girare partirà da quelli come è che la società ha sempre lavorato così però ci saranno anche degli innesti importanti secondo me che Sarri pretenderà per fare un salto ovviamente si parla di due tre colpi non di più secondo me io spero sempre che tra questi ci sia Orsolini lo sapete secondo me lì davanti è la nostra forza visto che dietro ormai si è compattato non c'è da metterci mano lì davanti invece c'è da migliorare per me un Orsolini è un vice immobile e vi dico cioè va benissimo per me è già stato bene così lasciando anche Marco Santonio che vi ho detto la Lazio non pensa in realtà da subito da darlo via il problema è che Sarri l'ha dichiarato dice che per il suo modo per le sue idee di gioco per le sue idee di quello che vuole ottenere Marco Santonio purtroppo sia a livello fisico quindi strutturale che di giocatore non rientra perfettamente in queste sue idee e quindi viene utilizzato meno di quanto merita ve l'ho sempre detto da quando è arrivato secondo me non è il giocatore ideale per il gioco di Sarri per come l'ho visto io e così si è confermato però vi ho anche detto che secondo me però in realtà il giocatore è un bravo giocatore io personalmente ripeto una delle critiche che ho sempre portato avanti e che ancora un po' porta avanti su Sarri è che lui non trova le alternative lui dice sempre che non c'ha alternative i giocatori sono stanchi io vi ho sempre detto per me qualche alternativa c'è per me qualche alternativa c'è tipo quando non c'era sbagliando perché io ho sempre detto che per me Luisa Alberto anche l'anno scorso l'anno scorso io ho iniziato le mie incazzature quando a novembre della prima stagione ancora se preferiva Basic Akpak Pro Andre Anderson a Luisa Alberto comunque diciamo anche quest'anno c'è stato un periodo dove Luisa Alberto era sceso nella gravitatoria dei favoriti di Sarri a quel punto io l'avrei usato Marcos Antonio però lì cioè sulla sinistra magari con Manusic dietro a metterci un po' di fisicità e a coprire un po' in quel senso quello spazio a sinistra però Mettivesino e Milinkovic per me Marcos Antonio lì come trequartista mezzala ma non lo so può essere pure mezzala anche trequartista per me ci si poteva provare non titolare venti minuti per dare respiro a qualcuno non lo so io a me piacciono queste botte un po' anche così coraggiose pazze di usare non dico di arrivare agli estremi di Enzaki che usava parolo gli mancava solo da metterlo come portiere e lo usava per qualsiasi ruolo non dico quello però anche ogni tanto mettere un giocatore che secondo me ha delle caratteristiche per poter farlo anche in altre posizioni vi ricordate quando vi dicevo per me Lazzari poteva anche sostituire per alcuni minuti 10-20 minuti per una partita un tempo anche per esempio Felipe Anderson lì sulla destra per me Lazzari invece di tenerlo in panchina se tu ti lamenti che Felipe Anderson non c'ha modo di respirare perché non può essere non abbiamo alternative per sostituirlo ripeto ni perché per me Lazzari 20 minuti di ossigeno gli ripoteva lì davanti l'abbiamo pure fatto mi pare all'inizio dello scorso anno della prima stagione questo tentativo non andò neanche male quindi io ripeto queste cose un po' le critico però però alla fine i risultati comunque ragazzi stanno venendo sono sotto gli occhi di tutti ci sono voluti due anni ripeto do meriti a un professore che cercava di dire pazienta pazienta voi sapete ve lo dico subito chi mi conosce io la pazienza non ce l'ho per me i campionati si giocano ogni anno per avere dei risultati non si giocano non si fa una squadra un allenatore si gioca ogni volta ogni tre anni cioè non si può costruire una squadra per tre anni io mi devo giocare qualcosa anche negli anni prima noi invece nel primo anno abbiamo abbandonato tutto quest'anno abbandoniamo tutto però devo dire che il professore ci ha azzeccato quando mi disse guarda starei da tre anni perché il primo anno non farà nulla il secondo anno comincerete a vedere qualcosa e il terzo anno il terzo l'anno di Sarri e sembrerebbe che sia proprio così andando a vedere il percorso che si sta facendo quindi incrociamo le dita e vediamo la società quanto appoggerà questo questo progresso della Lazio e ragazzi ci si è detto ci sarebbero ancora tante cose da dire su quello che avete visto ieri quello che si è visto ieri ovviamente mi avete scritto un 2000 Sarri Ball Sarri Ball e io per l'occasione ho messo Dragon Ball perché poi il passaggio insomma tra Sarri Ball e Dragon Ball è veloce non lo so perché a forza legge Sarri Ball ho detto ma mi metta la felpa di Dragon Ball così è una cazzata non c'entra niente però vabbè e niente insomma avete scritto tante cose però ecco è bello l'entusiasmo indipendentemente dai punti di vista da chi vede cose da chi le salta fino a pensare lo scudetto a chi invece continua magari a non vedere perché dica sì vabbè ma per star seconda posta abbiamo lasciato tutto ed è qua sì anch'io diciamo tendo un po' a dire purtroppo abbiamo lasciato alcune cose però ripeto se è un sacrificio che porta a questi risultati ovvero che porta a poter allenare la squadra tutta la settimana ed essere più attento a determinate cose ripeto se la crescita sta portando questi risultati mi roto il culo pure a me però me lo mando giù tranquillo il boccone amaro sarebbe stato diverso uscire da tutto perché poi ripeto noi siamo l'unica squadra che non sta lottando per nessun trofeo realmente bene o male tutte quelle che abbiamo anche battuto che stanno vicino a noi in classifica tutte stanno lottando per altri traguardi e come tutti pro e contro loro penseranno a quelli e noi ne approfittiamo noi pensiamo al nostro non porterà un trofeo in bacheca avremo numeri e una classifica che servirà solo per gli almanacchi a proposito ma gli almanacchi voi ancora c'è chi compra gli almanacchi io l'altro giorno mi sono ritrovato gli almanacchi illustrati del calcio di qualche anni fa mi avrebbe pure piacere parlare a questa cosa degli almanacchi perché una volta erano carini queste cose comunque chiusa parentesi poi ne parleremo però ecco non stiamo realmente lottando per qualcosa sì il secondo posto è qualcosa di importante ve l'ho già detto playoff delle supercoppe italiane soldi in più dalla champions però ovviamente non porta un trofeo da mettere in bacheca quello manca per uno come me che comunque il calcio lo vede che ci sono tre competizioni Scudetto Coppa Italia e Coppa Europea diciamo spero sempre che la Lazio possa giocarsela una delle tre non vederla per due anni competere su nulla mi fa male però ripeto se si è fatto questo percorso ormai è evidente che c'è un percorso è evidente che si stanno ottenendo dei risultati quindi i bocconi amari bisogna mandarli giù in previsione del fatto ripeto che o professore abbia ragione ovvero che il prossimo anno sia l'anno di Sarri però non deve essere solo l'anno di Sarri deve essere l'anno di Sarri deve essere l'anno dei giocatori e soprattutto deve essere l'anno decisivo in cui una società mette le mani in saccoscia incomincia a tirare fuori qualche soldo mette qualche giocatore qualche alternativa in più a questo allenatore e ci si punti perché io non penso che il Napoli faccia lo stesso campionato di quest'anno perché sicuramente i giocatori qualcosa il Napoli andrà anche a vendere perché le altre squadre non è detto che si rifonderanno e ripartiranno subito in quarta insomma secondo me ragazzi non dico altro ragazzi ci vediamo presto un prossimo video leggerò i vostri commenti qui sotto come andrò a rispondere a quelli su Instagram lasciate un like olivodolci grazie a tutti